Sul podio una donna che ha insegnato a tantissimi genitori, un po' come si educa, no? Tata Lucia, Lucia Rizzi, che è una donna di grande saggezza, di grande esperienza, proprio dei bambini, degli adolescenti, dei genitori. Allora è qui per rivolgersi proprio, Lucia, ai genitori e ai nonni. Allora intanto devo dire che la mia mamma fin da quando ero piccola mi diceva che ero pettegola, che una volta era un peccato mortale essere pettegola, adesso ci sono i social, tutti pettegoli, ma una volta non si poteva dire cosa faceva il vicino di casa, assolutamente. Però io questo desiderio di conoscere la gente e di parlare l'ho sempre avuto, fin da piccola. E quindi questo è. Ho insegnato ormai quasi 50 anni in scuole internazionali, quindi ho conosciuto generazioni. Adesso io ho in classe figli di miei allievi di vent'anni fa. Caccio picchia, complimenti. Caccio picchia, complimenti. Che me ne cacciano. Adesso insegna prime elementari, elementari adesso. Sì, quest'anno insegno in questa scuola Canadian School di Milano, che è una scuola internazionale. e quest'anno ho le due prime elementari, che sono una meraviglia i bambini, in prima elementare. Quindi Lucia, bambini anche in questo momento, dopo aver subito due anni di ansie legate alla pandemia, sentono le loro case dai genitori preoccupati, le televisioni, le radio, sentono parlare della guerra. Bambini, ma anche i ragazzini più grandi. Cosa vuole dire Lucia ai genitori e ai nonni? Voglio proprio dire ai genitori che ricordiamoci sempre che sono bambini. Bambini. E per le Nazioni Unite, children fino a 18 anni. Quindi non mettiamo lì, non aumentiamo, diciamo, l'ansia, la cosa che nel bambino è limitata a quello che lui non si sente di poter gestire. Allora dobbiamo ridurre quest'ansia a qualcosa che lui può, in un certo senso, risolvere, se non altro dentro di sé. Quindi un esempio pratico, insomma. Quando c'è stato vent'anni fa circa il problema del Kuwait, io avevo, essendo scuole internazionali, noi abbiamo dalle 30 alle 50 nazionalità diverse. E c'avevo di tutto e di più, americani, Kuwait, gente così. Ed erano molto preoccupati, era una classe anche più sulla terza, 8 o 9 anni. Ovviamente c'erano già, si sentiva anche tra di loro, perché io sto da una parte e tu stai dall'altra. Allora io ho detto, ragazzi, noi cosa possiamo fare? Voi vedo che siete preoccupati così. Facciamo una bella cosa. Siccome i nostri pensieri aiutano la cosa, allora io adesso vi chiedo di appoggiare la testa sul banco e di pensare a una cosa bella che voi vorreste dire a uno di questi bambini che sono là. Una cosa bella. Allora, naturalmente io non potevo chiudere gli occhi, perché se quello dava una martellata al vicino non potevo. E li ho tenuti aperti. Voi aveste visto le facce di questi bambini distendersi, proprio rilassarsi. Allora io quest'anno, con le prime che ancora sono piccolissimi, però hanno saputo della guerra, chiaramente. Anche perché c'è un russo in classe, c'è bambini di diverse nazionalità. Allora non ho fatto questo esperimento, mi sembrava un po' troppo. Però ho detto, voi vedete alla televisione tante magie, tipo quella dell'Harry Potter. Allora, la magia ce l'abbiamo tutti. È proprio la magia di pensare una cosa per bene, una cosa tranquilla. Come se voi invitaste qualcuno che è dentro in questa guerra a pensare una cosa bella. E loro ci sono stati. Quindi ha visto di nuovo i volti più sereni? Certo, bisogna fargli fare una cosa da bambino. Perché noi adulti non riusciamo a risolvere questa cosa. Adesso io non voglio fare, ma io prenderei questa gente che ha deciso di fare la guerra, la chiuderei in una stanza lì a meditare. A meditare, a meditare. Allora, Tata Lucia, sa le chat dei genitori, no? Sì. Ecco, leggiamo cose come queste, le abbiamo estratte da una vera chat. Le abbiamo estratte alcune, vediamo se la regista ce le propone. Perché ci sono genitori che dicono, i bambini non devono sentire nulla, spengo tutto. Altri che dicono il contrario, gli spiego, cerco di essere sereno e spiego. Vediamo, ecco, qui ce ne sono alcune, adesso è un po' piccolino per scrivere. Comunque qualcuno dice, non mi sfiora proprio l'idea di fargli capire qualcosa. Perché il bambino sente la notizia, si ingigantisce dentro di lui, diventa un mostro. E quindi non deve proprio ascoltarla. Qualcun altro invece dice, io ho spento tutto, preserviamo loro il bello, altri dice no. Io sono una mamma, so come dire a mio figlio le cose, non mi fido degli insegnanti e quindi glielo dico io. Qui c'è anche una mamma in studio, Monica, Monica Minetti, che ha due bambini, Luca e Tommaso. Buonasera Monica, quanti anni hanno? Buonasera, buonasera. Si sente? Si sente il microfono? No, pronto, sì? Poco. Prego, prego, parli, ce lo dicono se non si sente. No, però l'avvicini la posta non si sente sicuramente. Buonasera. Comunque si va bene. Luca e Tommaso quanti anni hanno? Ho due ragazzi, Luca 9 anni e Tommaso 15. E le volevo proprio chiedere, penso a nome di tanti genitori, dei consigli pratici proprio. Perché io non ho mai pensato di dover nascondere la realtà, nel senso che secondo me è importante crescere i figli con il senso della realtà. Poi sono già grandini, sono già grandini. In questo momento in cui già hanno subito la pandemia, in un momento quindi in cui sono già abbastanza fragili, come spiegare loro tutto questo? Allora, io... È giusto fare vedere il telegiornale, le immagini, i video? Io non sono tanto coccolona, cioè trovo che il bambino deve affrontare la vita. Perché è la sua vita. Adesso prima c'è stata la pandemia, adesso c'è la guerra. Cioè ci sarà sempre, oltretutto noi di guerra interiormente, ne abbiamo tantissime. E il bambino deve abituarsi a poco a poco a vedere. Però bisogna metterli in condizioni di fare qualcosa, di pensare qualcosa che possano fare. Allora, è chiaro che quello più grande potrà senz'altro sentire quello che lei dice al piccolo. E poi potrà elaborare con voi magari qualche cosa, qualche domanda un po' più profonda. che... Allora, spiegare che cos'è la guerra. Proprio si deve dire che la guerra è una violenza. Comunque la si voglia un sopruso. È una cosa tremenda la guerra. Però quanti dei nostri figli ormai vivono in un ambiente dove c'è il bullismo, dove c'è la violenza, dove i ragazzini si rubano le cose perché lui c'ha questo, quell'altro c'ha quell'altro, tutto un arrivare. Quindi anche quello serve, anche quello per spiegare la guerra. È una prepotenza contro la vita. Non c'è niente da fare. Guardi, Lucia, io ho una figlia di 11 anni, un'altra di 17. Sono entrambe preoccupatissime. Quella di 11 anni comincia ad avere degli attacchi di ansia. Sì. Ecco, pandemia, guerra, eccetera. Anche perché sui social fanno i balletti dicendo arriva la terza guerra mondiale. Certo. E loro sono loro simili che dicono arriva la terza guerra mondiale. Anche lì... Io ho sbagliato perché ho spiegato a lei un po' le cose come stanno. Sì. Ecco, gli ho spiegato le cose come stanno. Gli ho detto la Russia, l'Ucraina, perché? Ho provato a spiegare. Va fatto questo? Ma con i ragazzi grandi si può, bisogna stare attenti perché questo ci mette tutti in colpa. Perché se nel 2022 non siamo ancora, nonostante l'ONU, eccetera, ancora non abbiamo capito che le guerre non si fanno, per nessun motivo. Perché è proprio un distruggere la vita, la guerra. Mauro, non so se tu hai insegnato anche. Io ho insegnato, mi rendo conto di quello che dice Tata Lucia molto bene, perché se non usi un linguaggio o dei parametri o uno scenario che possano comprendere, nel quale immergersi, rischiano di non comprendere bene cosa sta venendo. E di avere ancora più paura. E di aumentare. Quando, se c'è una parola che tu hai citato all'inizio del programma di stasera, ed è quella relativa al coprifuoco, noi ci ricordiamo, avendolo vissuto durante la pandemia, cosa significa. Pensiamo a cosa può essere per un ragazzino, oggi l'idea, no, rapportata a quello che sta avvenendo là, spiegare che là devono stare chiusi per forza perché stanno sparando da fuori e sta succedendo qualcosa di brutto che non dovrebbe accadere. Bisogna parlare con il loro linguaggio e non con il nostro. Perché noi possiamo analizzare la situazione. Loro magari si fanno prendere più dalla paura che dall'altro e questo non va bene. Quindi indicare che c'è un cattivo? Beh, un cattivo, una persona che non è competente nel... Cioè, intanto la famiglia dà un imprinting, cioè le cose in cui io credo. Benissimo, un esempio. Quindi se io credo che la vita va preservata e che non c'è ragione per uccidere, non esiste ragione per uccidere, io questo lo posso trasmettere. Questo che va trasmesso, sottolineato. E quindi va trasmesso sempre perché il bullismo, la violenza, sono tutte forme di prevaricazione sull'altro e sulla vita. Quindi sottolineare questo valore di positività, questo valore che poi vale nel percepire quello che è la guerra, ma vale anche nella loro realtà. Nella loro, certo, nella loro realtà, perché dobbiamo insegnare a questi ragazzini il rispetto della vita propria e degli altri. Grazie, grazie davvero a tata Lucia. Buon lavoro anche... Pensiamo anche a tutti gli insegnanti. Vuoi aggiungere una cosa? Gli insegnanti e i nonni, i nonni che hanno vissuto la guerra. E che ce l'hanno raccontata. Io sono nonna, anch'io, ormai ho sei nipoti e chiaramente con grande tristezza ho dovuto in un certo senso spiegare, però è chiaro che ai piccolini, io vado dai miei nipoti dai 23 ai 6 e quindi li ho tutti. Tutte le taglie. Ecco, ho dovuto proprio con tranquillità spiegare questa cosa in modo che loro si sentano forti della loro vita. Forti della loro vita, dei loro valori. Questo è il messaggio che arriva. Certo. Contenta? Grazie, grazie. Ma se avessi un po' di tempo, tata Lucia non potrebbe venire tutte le settimane a farci un corso? Mi sembra un'idea fantastica. Sei libera, eh? E ha voglia. Grazie tata Lucia. Grazie. Grazie davvero.